Alla bottega del restauro di Giovanni Consolo, la mia bottega, è arrivato questo antico comodo in radia di noce di provenienza francese. L'epoca è metà ottocento. Le condizioni sono discrete e presenta visibili piccoli segni di usura. Il mobile risponde agli essenziali criteri di adeguatezza, semplicità e proporzione. Richiede lavori di restauro. La bottega si prenderà cura di lui. Seguiremo passo passo tutti i passaggi e vi informeremo. Le mie mani e la mia esperienza lo riporteranno al suo antico splendore. È in vendita. Chi fosse interessato ad aggiudicarselo può contattarmi in privato. E ricorda, la tua casa dovrebbe raccontare di sei ed essere una collezione di ciò che hai.